guarda sandro cane in mezzo alle cicale sono qua che sto usando la black snow 969 s old sky mi sono appena modificato l'ho trasformata in una era una banale grave l'ho trasformata in una rad ho aggiunto questa borsa che mi sta perfettamente sto provandola sto vedendo come va allora è abbastanza pratica sono un po perplesso per questo tipo di chiusura che praticamente non è proprio chiuso e anche per questa della verità ma vedo che anche altre borse più più costose lo sono ma ciao va bene però dai ci sta perfetta sul portaparchi di questo qua il mini portaparchi di davanti sono un po perplesso anche per il posto del cellulare qua perché mi sembra un po pericoloso nel senso che c'è la possibilità di di perdere il cellulare non sembra molto diciamo in una posizione molto sicura ma vabbè adesso comunque facciamo il nostro giro e sudiamo parecchio perché sto sudando come una capra e va tutto bene il volante il manubrio il volante è spettacolare mi piace molto la sua posizione probabilmente dovrò cambiare la copertura dietro e metterne una più piccola perché questa ho esagerato ho esagerato e sfiora o tocca il ok per fortuna non sfregio vabbè comunque mi ha dei sfregi sta bici tocca rischia di toccare il talario se storgo un po i raggi non si muove un po la ruota perciò ho già ordinata e arriverà questa qua è una 1.95 esagerata per questa bici questa bici è consigliato portare le 40 da 700 e installerò una 40 infatti già ordinata qua abbiamo il nostro shock la forcella ovviamente ha sostituito la forcella originale perciò può permettersi di portare tranquillamente un 1.95 come vedete ed è una forcella che può andare bene anche per 29 leggermente ammortizzata 30 mm e qua ragazzi la sella è comoda va bene arriverà il reggissella appena possibile farò vedere ho preso un reggissella adatto per questa bici ammortizzato però che richiama comunque il cromato ok perciò sarà ancora in stile old skull per questo tutto oggi ma in fondo abbiamo un rituale taoista mi sembra che c'è gente anche scalza che vediamo il prossimo video vi raccomando di iscrivervi ok